I comandi di tutti i trattori di alta potenza Doysfar sono caratterizzati da una logica di colori, precisa e intuitiva. Un'altra utilissima funzione a bordo della Serie 7 TTV è data dal Comfort Tip che permette di memorizzare una sequenza ripetitiva di funzioni e di operazioni per poi richiamarla successivamente premendo un solo pulsante. La memorizzazione delle sequenze Comfort Tip può essere fatta anche tramite i monitor. In questo caso si possono legare le operazioni fra di loro per attivarle automaticamente in base alla condizione selezionata, tra tempo o distanza. Se non si legano, il passaggio alla successiva avviene semplicemente premendo il pulsante Comfort Tip. La combinazione del Comfort Tip e della guida assistita migliora le lavorazioni, riduce lo stress e migliora il Comfort. La funzione Comfort Tip è presente anche per i trattori non provvisti di iMonitor. In questo caso la registrazione manuale delle operazioni andrà fatta premendo gli appositi comandi.